YouTube permette la visualizzazione di alcuni suoi video in modalità realtà virtuale, quindi i video 360. Esiste un'app che si chiama VR3D, YouTube VR3D, che mi permette di fare questo. L'app è davvero molto semplice, vedete qui mi chiede di trovare su YouTube dei contenuti, adesso non metterò nulla, mi chiederà anche di accedere al mio account Gmail, io non faccio nulla di tutto questo, ma esploro solo i video 360. Che sono diversi adesso, diciamo, alcuni sono anche didattici, altri meno. Per esempio prendiamo questo del leone della National Geographic, dico USA for free, quindi accetto. E vediamo come esplorare. Quindi mi chiede di accedere al contenuto. Adesso vado. Ok. E possiamo partire. Questo è uno dei tanti contenuti presenti con gli libri. Non è sempre che una madre deve guidare la madre fuori dalla prigia, ma è successo. Questo è Gibson, che già ha perduto un fratello. Ok. Ok. Grazie a tutti.